Nei combattimenti che si svolgono al giorno d'oggi è difficile cogliere qualcuno di sorpresa e se mosse e volontà si equivalgono alla fine trionfa sempre colui che è maggiormente preparato La colpa di quanto sta avvenendo è esclusivamente tua, Caio perché nel tuo smisurato orgoglio ti sei ritenuto tanto forte da non aver bisogno di approfondire le tue conoscenze Non hai mai combattuto contro qualcuno che fosse più abile di te mentre io ho affrontato molti valorosi avversari E li hai sconfitti, Canciro? Proprio così No, non credo una sola parola di quello che dici stai cercando semplicemente di farmi perdere la fiducia in me stesso No, non l'ammetterò mai che sei il più forte, toglitelo dalla testa Avanti! Usa dell'altra energia su di me se puoi No, non l'ammetterò mai che sei il più forte No, non l'ammetterò mai che sei il più forte